Grazie a Renata Allena, ricercatore e nutrizionista verso Dix Rizzoli di Europea. La panoramica è una presentazione moderna e sicuramente sarà un punto di riflessione per tutti noi. Il prossimo intervento è del professor Faglio Daffetani, a cui va un grazie particolare da parte dell'amministrazione perché è la persona attorno a cui è stato costruito un po' questo evento, è stata la persona che ci ha fornito tutta la documentazione, il supporto, la conoscenza e i tipi di relatori che abbiamo qui invitato. È un nostro concittadino, professore ordinario di botanica e l'ecologia digitale, Dipartimento Scienze Agrari, Alimentari e Affiettali della Politecnica di Ancora. Curriculum, se lo leggiamo ci mettiamo 10 minuti, quindi facciamo un piccolo sfunto. Attività sulle attività di ricerca scientifica, studi sulla vegetazione e delle serie dinamiche applicate alla gestione del territorio, studi per la valutazione delle biodiversità e la conservazione della naturalità e attività svolte nell'ambito di progetti di ricerca finanziate a CNR, dell'Unione Europea, delle regioni Marche e altri enti territoriali, complessivamente documentato da oltre 150 pubblicazioni, di cui si aggiungono altri 50 al lavoro e produzione locale. Buonasera, mi fa piacere una platea così ricca e così participe, speriamo poi di avere anche il tempo di poter discutere, quindi vado rapidamente perché non voglio togliere tempo a chi mi seguirà. Il titolo che ho scelto è i problemi dell'agricoltura sono i problemi di tutti e cercherò di spiegare perché. In un paese come il nostro, in particolare le Marche, che ha una fragilità ambientale particolarmente vistosa e una ricchezza ambientale altrettanto importante, la diversità costituisce appunto un valore assoluto, non pari del patrimonio storico, architettonico e dei verni culturali, ogni attività economica, industria, turismo o la stessa agricoltura, deve essere valutata prioritariamente su base delle ritenute ambientali. Ormai di questo, cioè io speravo che effettivamente la crisi economica ci avesse spinto a riflettere su questo. Devo dire che fino adesso non c'è stata questa riflessione, tutti stiamo pensando di uscire da una crisi mondiale oltre che europea e particolarmente grave per l'Italia solo con piccole ricette, con piccoli cambiamenti. Il cambiamento più importante, io di questo ne sono certo perché sono diversi tanti anni che me ne occupo, il cambiamento più importante dovrebbe essere quello di riuscire a mettere un bene che è di tutti, l'ambiente, e che non ha nessuna valutazione economica, non si riesce a dargli una valutazione vera dal punto di vista economico, a metterlo avanti a tutto il resto. Se noi riuscissimo, e questo quello che poi tecnicamente noi diciamo, quando diciamo che un'attività deve essere sostenibile, agricoltura sostenibile, energia sostenibile, quante volte usiamo questo termine? Ma quante volte sappiamo che significa sostenibile? Sostenibile significa che noi possiamo continuare a fare quell'attività per decenni, per secoli senza problemi. Quali di queste attività che oggi noi facciamo, compresa purtroppo l'agricoltura, sono sostenibili? Non lo sono quasi nessuna. Allora, o ci mettiamo in testa che questo problema dobbiamo affrontarlo quanto prima e quanto più profondamente, oppure non andiamo avanti e soprattutto lasceremo una realtà sempre più grave a chi ci viene dietro. Una piccola riflessione sull'agricoltura. L'agricoltura praticamente si è fermata agli anni 50, al dopoguerra, perché dal dopoguerra ha conosciuto una rivoluzione profonda legata principalmente alla meccanizzazione, al miglioramento genetico e all'invasione chimica. Tutto questo è stato previsto, questa esaltazione dei meriti dell'agricoltura che produce 6, 10, 20 volte quello che si produceva per unità di superficie fino agli anni 50, sembrava appunto dovuto a questa capacità della tecnica e dell'insieme di questi fattori. In realtà è semplicemente un input economico, è che noi pompiamo l'agricoltura, ma in molti altri settori, purtroppo l'agricoltura è il più importante, per questo dicevo che i problemi dell'agricoltura sono i problemi di tutti, perché i problemi dell'agricoltura si riflettono per un territorio come il nostro su tutto il resto delle nostre attività, dall'alimentazione, penso che quello che ci ha detto Renata non abbia bisogno di particolari commenti, al stile di vita, alle attività, ai cibi che noi produciamo, alla qualità dei cibi, alla loro possibilità di entrare in un mercato anziché globale con un raffronto di costi che noi non potremmo mai competere con la Cina o con il Nord America o con l'Est Europa, invece dobbiamo competere con prodotti di qualità e questo purtroppo oggi l'agricoltura non lo fa. Già negli anni Sessanta appunto una studiosa, un'attenta osservatrice dell'Americana, Raquel Carson, ha scritto un libro che è insuperato ed è un premonitore, primavera silenziosa, perché prevedeva quello che già all'epoca erano i primi momenti in cui si usava la chimica nei campi e già si era resa conto di quello che sarebbe potuto succedere. La mia presentazione, a differenza diciamo di quella di Renata che devo dire è abbastanza scioccante, però appunto ci mette davanti a una difficoltà di potersi e come quando ci dicono stai attento ma non si sa a che cosa, certo ci ha detto facciamo attenzione all'alimentazione, ma come facciamo ad avere la sicurezza che un cibo sia veramente sano, salubre e privo? Certo ci sono tipi di agricoltura che sono fatti per questo, sono ancora delle scelte tra l'altro non facili che gli agricoltori fanno e quindi questo si può fare, ma appunto c'è anche una possibilità di rendersi conto personalmente di che cosa noi di sbagliato stiamo facendo ed è questo il mio compito stasera, voglio dimostrarvi che cosa con i nostri occhi possiamo guardare, verificare, misurare e quindi avere la giustificazione di scelte che dobbiamo fare quanto prima senza dover pensare a rischi che ci vengono, in cui misurazioni ci vengono dall'analisi delle urine o dall'analisi delle acque superficiali o delle acque che beviamo e quindi vediamo quali sono appunto un po' queste basi di osservazione su cui è bene avere gli strumenti ciascuno di noi per poterli valutare e poi concluderò con alcune proposte che bisogna anche vedere gli aspetti positivi di ciò che si può fare, poi visto che abbiamo diversi sindaci sentiremo appunto delle esperienze positive che sono già state realizzate e di cui possiamo quindi prendere atto e devo dire che questo è una recente trasformazione della nostra società, cioè questa delega che è iniziata da una visione centralizzata delle attività di programmazione e anche di tipo economico dallo Stato, le regioni, le regioni, le province, le province, i comuni, adesso ho fatto sì che appunto i comuni praticamente hanno quasi tutte le competenze, non hanno né personale, non hanno né fondi, non hanno competenze, però si trovano tra capo e collo questa responsabilità e alcuni sindaci hanno trovato la forza e la capacità di realizzare delle scelte importanti e vedremo quali sono. Un esempio di che cosa succede quando si affrontano questi temi in maniera separata, l'energia ottimo, l'energia solare che cosa c'è di meglio, applicata nei campi, ecco quello che è successo, le macche sono la regione che ha gli impianti fotovoltaici più numerosi di tutte le regioni italiane e la media delle dimensioni degli impianti la più alta, quindi siamo quelli che dal punto di vista dei impianti fotovoltaici nei campi, non sui tetti delle industrie o delle case dove la cosa sarebbe perfettamente utile, andiamo a occupare i campi che dovrebbero essere utilizzati per l'agricoltura perché era il modo migliore per far soldi, per guadagnare di più perché comunque il beneficio c'era, ci sarebbe stato anche nel posizionare i pannelli solari nei tetti, ma il vantaggio sarebbe stato minore. Adesso stiamo di fronte, sapete, è scoppiata da tempo questa situazione appunto dei biogas, le marche sono state proprio al centro dell'occhio del ciclone perché appunto il numero più alto è messo in dubbio da tutta una serie di applicazioni più o meno cervellotiche delle dimensioni, delle modalità con cui dovevano essere fatte le valutazioni di impatto ambientale, ma non entro in questi meccanismi. La cosa assurda è che appunto una struttura come questa, cioè delle camere che servono per produrre energia, che doveva essere così, dai residui dell'agricoltura, perché appunto i residui dell'agricoltura diventano un onere per le aziende, così sarebbero diventate invece un vantaggio, cioè una trasformazione in energia. Pensate che sia stato fatto così, che qualcuna di queste strutture risponde a questo criterio? No, sono tutte state fatte per speculazione economica e nessuno si è preoccupato di capire che se c'erano degli impianti così grandi, così ravvicinati anche come zone dove venivano previsti l'impianto e completamente al di fuori di quella che poteva essere la disponibilità di materiali di risulta dell'agricoltura, era tutt'altra cosa. E infatti già quelli che sono entrati in funzione stanno rastrellando tutte le nostre produzioni di pianura, tutte le nostre poche pianure che noi abbiamo, che producono generalmente mais, tutto quel mais lì non va più nel settore alimentare, forse sarà anche, visto quello che ci ha detto Renata, potrebbe essere un vantaggio, visto che vanno per energia, però questa è una degenerazione dell'agricoltura che noi certamente non avremmo voluto e dovuto fare. Che cosa possiamo vedere? Intanto da una foto aerea della nostra regione si può distinguere il nostro territorio in due parti, qui facciamo collinare e costiera, che la vedete è un marroncino uniforme, che significano campi coltivati, assenza di ambienti forestali di una certa consistenza, e le zone appenniniche invece dove abbiamo una copertura indicata dalla colorazione verde di boschi abbastanza estesa. Ora siamo riusciti in pochi decenni a fare danni sia nella parte collinare che nella parte montana, con risultati analoghi pur se con interventi completamente differenti. Cioè nelle zone collinari abbiamo sviluppato un'agricoltura, sostenuto tutt'oggi, un'agricoltura di tipo industriale, cioè un'agricoltura intensiva, che per trovare un maggior guadagno deve togliere ogni ostacolo e allarcare sempre più le superfici di lavorazione per poter diminuire i tempi di lavorazione. Quindi abbiamo fatto una vera e propria pulizia di tutto ciò che è il sistema che fino agli anni 50 ha permesso per secoli questa regione di poter produrre senza aver danni ambientali. e nelle zone montane invece abbiamo disinvestito. La gente che sta in montagna si sente abbandonata, non ha servizi, non ci sono investimenti e quindi se ne scendono in collina, in pianura e quindi si è l'abbandono e l'abbandono, adesso lo vedremo in termini pratici, produce perdita di ricchezza culturale, economica, perdita di biodiversità, che è quello che teoricamente ci sembrerebbe di ottenere perché ogni anno, se andiamo a vedere, le percentuali di bosco aumentano, anno dopo anno, ma in realtà si tratta di boscaglie di quasi nessuna qualità, invece quello che perdiamo sono praterie importantissime sia per la biodiversità sia per le possibilità di sfruttamento economico che non torneranno più. Questa è una foto col fiorito degli anni 30. Si capisce che non è una foto attuale, non tanto per il bianco e il nero, ma ci sono delle strutture nelle parti centrali avanti che oggi siamo, pochi giorni fa, abbiamo iniziato questa settimana con una scuola qui di Appignano e praticamente già gli insegnanti hanno avuto qualche problema, ma i ragazzini praticamente non sapevano di che si trattava i paiai. Per chi ha una certa età come me, insomma, sono una cosa banale, eppure questo ci dice che appunto eravamo in una situazione ambientale diversa, non che dobbiamo tornare indietro, ma dobbiamo prendere dall'agricoltura degli anni 50 perché era il massimo della capacità produttiva vera, cioè fatta con l'energia solare, l'energia manuale dell'agricoltore e l'energia animale, quindi senza nessuna altra forma di energia che non sia rinnovabile, quella è la vera agricoltura. Quindi bisogna partire da lì, magari migliorarla, scegliere i miglioramenti dell'agricoltura che possono riprendere quel discorso e da quella ripartire per fare una vera agricoltura del futuro, perché quella che abbiamo oggi è un'agricoltura a perdere, a finire, non ha nessuna chance di andare avanti e forse non avremo neppure noi, però non si sa chi dura di più. Se un elemento del paesaggio che sta dietro, sino da poco, è le montagne che sono tutte spelacchiate, in realtà non è che non ci fossero i boschi, ma li tagliamo talmente di frequente che sembravano appunto poveri. Se adesso torniamo lì al col frito e guardiamo dei versanti, sono tutti belli coperti dalla vegetazione florestale perché appunto è cresciuta dall'altro, adesso la storia sarebbe un po' lunga. Se andiamo nelle zone collinari, questo è il paesaggio, siamo nella valle del museo, nella parte terminale, si vede il conero sulla sinistra e all'orizzonte e era un paesaggio completamente diverso da quello attuale e non era un paesaggio dovuto a ignoranza o al fatto che non si potessero coltivare grandi superfici, ma era già stata fatta questa esperienza. Nel 400, soprattutto nel 500, quando si è avuto un aumento della popolazione, quindi una richiesta di alimenti molto più elevata, si è iniziato a fare la coltivazione del grano su grandi superfici. Tutta la zona, la fascia della Toscana, la Romagna e le Marche e il Molise hanno avuto problemi di frane che hanno inghiottito interi paesi e si si è resi conto che quel tipo di agricoltura su grandi superfici non poteva essere fatta, doveva essere alternata l'agricoltura a situazioni che mantenevano il terreno senza modificarlo e quindi c'era questo sistema con le alberate, con i filari alberati, dove c'erano l'agricoltura e la frutta, gli olivi, gli ageri maritati con la vite, tutto ciò che serviva per integrare la produzione delle piccole aziende a conduzione mezzateria. Vediamoci un dettaglio, guardate che paesaggi. E' una situazione completamente diversa da quella attuale, ma appunto non erano amanti della natura. All'epoca se potevano rubare qualche centimetro di terreno al vicino lo facevano molto volentieri, si coltivava fino all'ultimo millimetro, però non si toglieva niente di ciò che era funzionale. Tutto il sistema di raccolta delle acque era sacro perché sapevano benissimo che perdere un millimetro di terreno significava che non lo si recuperava più. Oggi perdiamo centimetri e centimetri di superfici fertili del suolo e neppure ce ne preoccupiamo perché tanto per noi contano solo i concili chimici che diriamo, quelli di sintesi. Tutto ciò che ha il terreno per noi è un substrato, il resto non conta. Questi sono degli studi che abbiamo fatto appunto su serie di tempi che ci vogliono per esempio per una pratteria per diventare un bosco. Dopo 34 anni praticamente da una pratteria abbiamo delle boscaglie che appunto sono tutt'altro che dei bei boschi e non è più una pratteria e non può essere più utilizzata come pratteria. Questo è quello che avviene appunto nelle nostre montagne. Sono ancora le poche zone dove si fa allevamento allo stato prato, nei simidini, qui nell'Alto Maceratese, sul Cadre e queste invece sono le zone dove appunto ormai la zootecnia non c'è più e quindi questi pratterie stanno diventando delle boscaglie. Pensate che queste sono, siamo talmente miopi da non sfruttare un'occasione importante che ci ha dato l'Europa. Cioè l'Europa ha individuato delle aree di valore naturalistico, la cosiddetta direttiva abita, perché ha individuato delle aree che si chiamano SIC e ZPS, SIC per le piante e le vegetazioni, ZPS per gli animali e quindi sono delle aree che grossomodo stanno nelle zone di tipo naturalistico più interessanti e sono state, sono aree che sono diventate patrimonio europeo, cioè non sono come abbiamo fatto finora, parchi, riserve, li abbiamo aperti, chiusi, allargati, ristretti come ci è parso, come ci è parso abbiamo applicato le leggi, anzi molte delle leggi che non ci piacevano abbiamo fatto in modo che passassero senza dover applicare, ma questa è una normativa europea e oltre al fatto che ci sono fondi per utilizzare, per gestirle, quindi per le aziende agricole, per i comuni che sono coinvolti nella proprietà di queste zone, nei territori di queste aree, quindi ci sono fondi dell'Unione Europea che permettono la loro gestione, il coinvolgimento delle aziende produttive, agricole e non, per la loro gestione, per il loro mantenimento, perché si tratta in gran parte come questi, di ambienti che non si mantengono da soli, cioè non è che basta lasciarli alla naturalità, alla vita, questi bisogna gestirli, bisogna mandarci gli animali e non è una cosa che avviene per caso, bisogna fare delle scelte, delle operazioni ben precise di finanziamento, di agevolazione, cioè tutto quello, una scelta che l'Europa per fortuna per noi ha fatto per riportare l'agricoltura nelle zone montane e noi che abbiamo fatto? Abbiamo detto vabbè, adesso le lasciamo passare, quando se ne saranno dimenticati poi continueremo a fare quello che ci aggrada di più, senza considerare che l'Unione Europea adesso comincerà a fare le verifiche e siccome sono queste aree ben delimitate, precise, con uno studio accurato della vegetazione, quando si accorgeranno che non sono più praterie, che sono diventate, naturalmente non è solo gli abitati importanti, non sono solo le praterie, ma è quello forse più significativo per la nostra montagna, perché è appunto quello che ci dice che cosa succedeva nelle nostre montagne e che cosa oggi non si fa più e che invece servirebbe sia per noi che per la nostra economia, per il nostro turismo, servirebbe a recuperare. Ebbene, a quel punto l'Unione Europea ci dirà avete lasciato che questi ambienti si degradassero, non avete messo in atto nessun intervento di correzione, quindi avete delle sanzioni, quindi adesso non prendiamo i soldi e poi prenderemo le sanzioni. Questo è il paesaggio, una ripostruzione di un paesaggio colinale, quello che vi ho descritto prima e questa è la situazione attuale, anche un po' ottimistica perché c'è ancora qualcosa. Questa è una foto reale, qui siamo tra la provincia di Maciata e quella di Fermo e questa invece è una situazione attuale. Che sia delle marche, ce lo dice la presenza delle querce, questa effettivamente è stato il vantaggio di una legge degli anni 70 che ha protetto gli alberi secolari, le querce, poi è stata estesa praticamente a quasi tutte le specie legnose, è stata importante all'epoca, probabilmente ha avuto qualche importanza negli anni seguenti, oggi andrebbe profondamente rivista, perché sta alienando le poche aziende che vorrebbero fare manutenzione dei fossi, dei boschetti, delle aree marginali e invece dovremmo pagarli per farlo. Invece no, rimettiamo ostacoli, facciamo fare carte, domande per eliminare questa richiesta. Abituiamoci a osservare, questa è una collina qui vicino a Maciata e con pochissima pendezza, quindi abbastanza tranquilla come condizione. Guardiamo più in dettaglio, si intravedono un po' meglio degli olivi, guardandoli con maggiore attenzione si vedono appunto che è il residuo di una serie di filari dove appunto sono stati mantenuti praticamente solo gli olivi perché erano gli elementi più produttivi, più interessanti, però se guardate la base di quegli olivi, vedete che è come su un piedistallo, stanno 30-40 cm sopra a livello del terreno, pur non essendo un versante molto in pendenza, significa che il terreno intorno, e non sono vecchissimi, saranno 40-50 anni, non sono olivi secolari, quindi significa che in 40-50 anni abbiamo perso decine di centimetri di suolo, di terreno. Se guardiamo ancora più aspettamente, quel fossetto che sembrava abbastanza innocuo, vediamo che è un canyon e non è una delle situazioni che ne vedrete di peggiori. Ne abituatevi a guardare i versanti, non quando siete qui dalla macchina, ma magari quando potete osservare tutte le nostre colline, qualsiasi versante delle nostre colline dove, fermatevi in qualsiasi punto dove potete fermarvi, trovate il fosso principale che è diventato un canyon, dappertutto, non c'è versante che sia esente da questa situazione. Insomma, rifricandoci un po' gli occhi con le piante, sono un po' danno, quindi insomma, questo è il mio lavoro. Utilizzando le piante si può stabilire l'età dei tipi di vegetazione che abbiamo. Questa è un'immagine di repertorio, direbbe qualcuno alla televisione, perché appunto è un'immagine di un campo con una vegetazione che ormai noi siamo più abituati a vedere. C'è Papavero, non so, il Papavero si è rifugiato poi in qualche margine di apposo, la fazza caomilla, estrioli, mille foglie. E' una situazione appunto per noi abbastanza inconsueta, non per tutti per fortuna. Se andiamo in un campo abbandonato da uno o due anni, troviamo una diffusione di alcune piante, sempre annuali e bienni, in questo caso una pianta molto interessante al punto di vista alimentare, le crispigne. E' una pianta che diventa invasiva, appunto, può stare in margine dei campi, ma appunto se un campo viene abbandonato, e quindi non viene lavorato, troviamo questo bel regalo. Se passano 5-6 anni, troviamo, arriva la carota, la carota selvatica, che anch'essa è una pianta alimentare, la rosetta si può mangiare l'insalata cotta con le patate, per esempio, e la radice anch'essa è commestibile, soprattutto appunto, è molto più saporita, anche se una consistenza naturalmente non pare a quella del... Se passano 10-15 anni, troviamo una fioritura che si vede bene nella tarda estate, dei cestugli che fioriscono appunto tardi, a fiori gialli, una composita che se si tocca è appiccicosa, infatti si chiama l'enula, il nome, enula appiccicosa appunto, che io dico è la zona appunto delle periferie urbane, è la zona che ci indica le zone che almeno i proprietari pensano che lì dovrà esserci una speculazione in inizia, perché naturalmente un terreno che diventa edificabile esplode il suo valore e quindi perché non tentare di fare quell'altro. Quindi questa è la pianta delle periferie di qualsiasi area urbana, piccola o grossa, perché tanto dappertutto dobbiamo continuare a costruire. Se passano una ventina, trent'anni, allora abbiamo delle vegetazioni che purtroppo sono diventate molto rare, possono trovarsi anche lungo le strade, ma devono essere particolari condizioni, oppure nelle aglie delle case coloniche, con una pianta molto interessante, facilmente riconoscibile, che è il ranuncolo, sono due specie che convivono e formano tappeti a maggio-giugno proprio completamente fioriti. Sono una già delle forme, perché man mano che adesso andiamo avanti, io vi faccio vedere una specie, ma il numero delle specie che accompagna la pianta che io vi descrivo, dominante, in realtà aumenta sempre di più. Ecco, il massimo si arriva nelle praterie. Qui la specie più importante è una gravinacea, il forasarco, il bromo selettus, ma hanno, e per questo l'Unione Europea le ha individuate come un abito al prioritario, hanno tantissime orchidee al loro interno. Qui ce n'è una, ma sono veramente una quantità enorme. Ed è quindi la cenosi e bacia, tutto sommato le cenosi vegetali più ricche di biodiversità, perché in un bosco si ha una maggiore struttura verticale perché si arriva anche a 20, 30, 40 metri d'altezza con diverse specie, dalle specie bacia, quella costina e quella albori, ma la struttura e la diversità che c'è in una prateria non c'è nessun'altra struttura di altro tipo. Quindi è la più importante ed è tutte quelle che stanno sotto 1800 metri di quota, quindi escluse le cime dei Sibillini e della Laga, sono praterie ottenute dal lavoro dell'uomo, magari dal taglio del bosco che è avvenuto anche secoli fa e che si è mantenuto utilizzando queste praterie attraverso il pascolo degli animali. In alcuni casi, appunto, visto l'abbandono della zootecnia che c'è stato dopo il dopoguerra, queste praterie si sono mantenute attraverso gli spazi, facendo fieno, oppure come lungo le scarpate stradali, per manutenzione delle strade. Se ci avviciniamo nella fase di maturazione, cioè quando arriva il bosco, c'è una struttura nitrofila che si chiama appunto orlo nitrofilo, con un succiamele, una labiata, che appunto, tra l'altro, può essere utilizzata anche a scopo alimentare, ma che un tempo, prendendo un'attività di un tempo, i ragazzini succhiavano il fiore per tirassù quel poco di zucchero che c'è alla base, quando non c'erano i dolci come oggi. E se arriviamo vicino al bosco vero e proprio, troviamo una pianta che usiamo anche come scopo ornamentale, la vervica, e questa appunto forma un orlo vero e proprio, quindi una fascia di viscezione molto stretta, si chiama ecotono, tra la prateria e il bosco. Dentro al bosco troviamo un'altra pianta interessante, insieme all'altra, che è la lassana, ed è una pianta, una sorta di brugno selvatico di bosco, che si usa a scopo alimentare. Abbiamo ripercorso l'evoluzione per arrivare a questa fase, partendo dal campo coltivato, ci vogliono anche un secolo, in alcuni casi anche di più, e quindi capite che cosa significa intervenire su queste strutture senza porsi il problema di che cosa succede, quando, come per esempio purtroppo sempre più spesso si fa, si sostituisce lo sfalcio con il diserbo chimico. Questa scelta è la più disgraziata assoluta del mondo che si possa fare, soprattutto nel territorio come il nostro, lo sarebbe ovunque, però per un territorio così ricco di biodiversità, per noi è la cosa più stupida che si possa fare, perché non ha alcun beneficio. Se ce ne fosse uno ve lo direi, non c'è, non c'è, la spacciano per un beneficio economico, adesso vedremo che cosa significa beneficio economico. naturalmente questo sistema di osservazione delle piante per noi è stato utile, è stato tra i primi e ancora l'unico in Italia e in Europa a fare questo tipo di proposta, di utilizzare queste cenosi di piante per descrivere la biodiversità e la ricchezza ambientale di un territorio rurale. Lo abbiamo affiancato con l'osservazione di alcuni animali, degli insetti gravidi che vivono nel terreno e con i micromammiferi che sono i piccoli topolini che ci permettono di capire quanto le popolazioni sono separate, quindi la frammentazione ambientale. Le aree di studio sono state le più diverse, qui ve ne faccio vedere solo alcune, sia del lungorversante adriatico che delle marche e due esempi pratici, qui siamo nell'introterra Anconetano, la zona di Serra dei Conti, due aree che poi vi faccio vedere, abbiamo analizzato con questo sistema. Qui siamo in un'area dove ci sono almeno una decina, sono 60 ettari, una decina di proprietari, quasi tutti ad agricoltura convenzionale, però appunto piccoli appezzamenti. Questo a poche distanze serve lo stesso comune, invece è un'area di 80 ettari, ma un solo proprietario che gestisce tutti i 80 ettari e insomma in alcuni anni appunto tutta la superficie era coltivata con una sola pianta. L'applicazione del nostro sistema, queste sono le foto a sinistra, avete le foto dal terreno, a destra le foto aeree, con i colori che vanno dal verde per le aree di maggior maturità al rosso, a quelle dove, quando è rosso pieno, dove praticamente c'è solo la pianta coltivata e nient'altro, come gran parte dei nostri campi purtroppo ci avvicinano ad osservare. E vedete che la differenza è notevole. Qui c'è solo la differenza di appezzamenti, perché il tipo di coltivazione è lo stesso, non ci sono agricoltori biologici da una parte convenzionale all'altra. C'è solo l'agricoltura convenzionale però applicata su superfici, su aziende di dimensioni diverse. Abbiamo fatto uno studio ancora più accurato su un intero vaccino dell'Aspio, che sta tra Ancona, Il Conero e Osimo, e abbiamo studiato la ideografia minore ripresa dalle carte dell'Istituto Geografico Militare degli anni 50 e l'abbiamo confrontata con la situazione attuale. Questo è un dettaglio, intanto vi anticipo che il 30% delle ideografie minore, cioè quella iniziale, quasi ovunque è considerato scomparso. Qui vediamo il dettaglio di quelle aree che c'è a sinistra la foto aerea, a destra la foto dal terreno, A, B, C, D, sono quattro punti. Praticamente il terreno viene lavorato completamente e poi si fa, quando va bene, il solco nel punto dove l'acqua dovrebbe scorrere. Ma non cambia nulla, perché tanto poi il punto dove scorrere l'acqua quando piove se lo trova da solo. La differenza è che se noi non teniamo, non proteggiamo quelle punette che raccolgono l'acqua, quelle principali, quindi lungo la massima pennezza, con vegetazione, abbiamo danni, e gravi anche, e che poi si ripropotono per tutto il sistema di raccolta dell'acqua. Quindi è una pioggia importante, come è successa nel 2006, proprio nel bacino dell'Aspio, che è salita l'acqua lagando il fondo valle dell'Aspio, anche per 4, 5, 6 metri. Se succedesse adesso, i metri sarebbero qualcosa in più, perché non hanno si tolto degli ostacoli al deflusso dell'acqua, ma non hanno risolto niente della parte più importante del bacino, che naturalmente non è esclusivo dell'Aspio, questo è quello che abbiamo studiato, purtroppo per la parte delle nostre colline è in questa situazione. Adesso vediamo quali sono i danni che noi stiamo provocando, in questo modo, naturalmente sia con l'abuso della chimica che con questa modalità di utilizzazione agronomica veramente, completamente assurda. Danni ambientali da EPCI e lavorazioni. Pensate, questi sono gli obiettivi che il PSR, quindi attraverso la critica agricola comunitaria, i vari PSR regionali avrebbero dovuto ottenere con le buone pratiche di lavorazione dei terreni. proteggere il suolo, mantenere i livelli di sostanza organica, proteggere la struttura del suolo, mantenendo il mantenimento dell'ecosistema, evitare il deterioramento degli abiti e proteggere i testi dei sozzetri. Questa addirittura è la foto che il Ministero ha messo per spiegare agli agricoltori come dovevano fare le lavorazioni dei terreni. La condizionalità è un collo di bottiglia che tutti gli agricoltori che fanno produzione sul terreno debbano rispettare per poter accedere a qualsiasi misura del PSR, dei pagamenti dell'Unione Europea. E questo punto è tratto dal manuale. Le fosse acquaie temporanei non devono essere più 80 metri, però non c'è nessuna indicazione del fosse principale. Il fosse principale semplicemente viene descritto, ma non come bisogna gestirlo. E questa che è l'immagine che dovrebbe essere l'esempio presenta già nella parte basale appunto erosione, perché tanto se in un versante il fosso principale non viene protetto dalla vegetazione e non c'è bisogno di boschi che lo proteggano, basta veramente poco, basta una vegetazione erbacea purché ben strutturata e questo permetterebbe appunto di svolgere una serie di funzioni, quello di rallentamento dell'acqua, depurazione, abbattimento della sostanza organica, biodiversità, eccetera, e che ci permetterebbe appunto di avere tanti di quei benefici che invece non ci perdiamo completamente mantenendo questi nostri versanti in questo modo, facendolo di servo anche dove effettivamente non servirebbe, anzi sarebbe necessario esattamente il contrario, cioè mantenere la vegetazione il più possibile integra e funzionale e questo appunto il risultato finale appunto è una profonda alternazione di tutta la rete etnografica e di tutti gli abiti, l'erosione sempre più diffusa e tra i danni che possiamo, appunto che abbiamo già in qualche modo anticipato c'è la perdita di tutta la flora cosiddetta commensale dei campi, tutte quelle piante che hanno convissuto per decine di migliaia di anni con i grani selezionati dalle steppe asiatiche e in poche decine di anni le abbiamo completamente eliminate. Sono tantissime le piante, oltre al fiordaliso, le faccio vedere rapidamente, e questo invece è il risultato quello che avevamo fatto lì all'aspio, queste sono le piante che sono scomparse nelle aree agricole coltivate e queste sono le specie invece che sono aumentate, ai lanto e robinia e poi tutta una serie di gravinance che sono diventate evasive, tra l'altro alcune di queste anche resistenti ai diservanti. altri danni da uso improprio qui siamo in Toscana, anzi in provincia di Verona, quindi in Veneto, questo è un'area SIC, un oliveto SIC, con muretti a secco, quindi una situazione veramente fantastica, fatto il diserbo, qui siamo in Toscana, un avvenimento del tutto gratuito, non l'ho presa in dettaglio questa, perché ci sono due caprioli che si stanno muovendo in questo deserto dei Tartari, però appunto per capire che quelle zolle che si erano, significa che il treno deve essere ancora raffinato prima di essere seminato, quindi si poteva benissimo evitare di fare quel deserto, siccome ci sono benefici per chi produce queste sostanze, quindi siccome chi spesso appunto lavora per contotezzi, cioè per le industrie e i nostri campi, appunto prende i calendari e le modalità di intervento per buoni, anche se appunto molto spesso non si è vero, quindi l'abuso che se ne fa di queste sostanze ma sicuramente sarebbe importante cambiare completamente il tipo di coltivazione, ma sicuramente alcune pratiche, tenuto conto del fatto purtroppo che il glifosate, che avete sentito prima, che è il diserbante più comunemente utilizzato, è una sostanza che viene spacciata, tutti gli agricoltori sono convinti che sia innocua, in realtà non lo è per niente, e tra l'altro se ne usa talmente tanto che sta facendo danni ovunque nel mondo, non solo da noi, però certo intanto pensiamo a noi, chiunque penserà per i suoi territori, e si potrebbe benissimo non fare, cioè non ha nessun beneficio, soprattutto tutto quello che viene dato fuori dai campi non serve assolutamente a niente, si può ridurre di molto anche quello nei campi, addirittura si può eliminare con le rotazioni, con i cambiamenti culturali, e quindi noi potremmo fare un'agricoltura molto più sana, più vantaggiosa anche dal punto di vista economico per noi e soprattutto molto più salutare. Tutto, sto mantenendo conto. Qualche immagine sull'abuso della chimica, ecco le immagini dei pianti fotovoltaici, questo è un premio Nobel proprio, bisogna darcelo, un ampicoltore che ha fatto il diserbo sotto le arnie, quello che viene spacciato, purtroppo abbiamo una provincia, quella di Ancona, che fa uso del diserbo lungo le strade, quindi proprio nei punti dove noi camminiamo, e con le macchine, ecco, questo è l'effetto appena dopo 10-15 giorni, perché bisogna sapere che appunto l'effetto sulle piante si manifesta solo dopo 10-15 giorni, quindi c'è il rischio che chi va a raccogliere gli asparagi in zone tranquille o così ritenute, se l'agricoltore ha fatto il diserbo, a margine del campo si può andare a prendere un asparago a glifosate che è qualcosa di inusuale. Ecco, dopo aver fatto questo intervento, bisogna fare lo sfalcio e viene fatto lo sfalcio, quindi al posto di uno sfalcio, vengono fatti due interventi, uno di diserbo e uno di sfalcio, è vero che quello successivo, diciamo, si viaziona nel tempo, però per esempio quest'anno, in provincia di Ancona, hanno fatto 4 interventi di diserbo, uno a dicembre, a dicembre sta fatto diserbo, tre di questi seguiti da sfalcio, ditevi voi se questo significa risparmio. Ve lo dico io che cos'è? Praticamente hanno mantenuto le spese ordinarie, più o meno lo stesso livello, però hanno decomplicato le spese straordinarie, perché quando le strade, non più trattenute dalla vegetazione, franano, allora a quel punto nessuno lesina i soldi per andarle a ripulire, a rimettere a posto, e quindi tutto quello che si spende in interventi straordinari sono tutti soldi che questi si gestiscono allegramente e che arrivano e altrimenti non sarebbero arrivati in una gestione oculata. A questo, però, è una degenerazione che non possiamo accettare. Qui siamo a Montefano, una strada che è da Macerata alla Mezzo-Montefano. A settembre 2008 mi sono accorto di questo qui, è un agricoltore che ha fatto questa bella pensata di allargare il diserbo anche fuori alla scarpata. È una scarpata di 5-6 metri, molto in pendenza, e io mi immaginavo che ci sarebbe successo qualcosa. E questo è quello che è successo. Se voi passate lungo quella strada, sta sotto il cimitero di Montefano, una strada che va verso Macerata, vedete che quella è sempre in frango. Ormai c'è una ruspa della provincia posteggiata perché tanto ogni pioggia quella deve essere ripulita. Ma guardate, ci vediamo, ma io posso dirvi tutte le zone dove questo sarà sicuro che succede. A ogni pioggia quelle strade verranno invate dal fango perché una volta tolta questa copertura vegetale non si riesce più a formare perché le frane seguono durante l'arco dell'anno e non si riesce più a reinsediare la vegetazione. Quindi rimangono costantemente in frane. Finché non diventano piante, però ci sono durante l'anno. Quello che succede, però, appunto, non è solo la cosa immediata, è che cambia completamente la struttura di questa vegetazione. Vediamo un po'. Ah, vabbè, è saltata un'immagine che era proprio qui in una strada vicino, a poca distanza da qua, dove, appunto, il diserbo aveva creato, appunto, una frana e si vede, dovrei tornare indietro per farvele vedere, però forse vale la pena. Ah no, è andata lì. Ho tolto tutta la slide. Ecco questa. questa è un'altra ingegnosità di un agricoltore che, vedete, c'è il campo che è arato, la proprietà, insomma, il proprietario ha interessato la fascia di sua competenza, non di sua pertinenza della scarpata per fare diserbo. Quello che è successo è che, appunto, la scarpata è completamente franata. Però l'osservazione va approfondita perché se noi guardiamo il punto di contatto tra la zona sinistra dove la fascia è rimasta sfacciata e basta e dove invece inizia l'erosione, vedete che nella zona non franata sono iniziate a crescere delle piante che non sono quelle che stavano prima nella scarpata, sono avene per chi conosce un po' che sono piante gravinacee invasive che crescono molto in altezza e molto rapidamente ma non hanno apparato di carne forte e quindi non ruolo nessun ruolo di tutela del terreno in compenso appunto diventano molto rapidamente invasive e quindi bisogna aumentare il ritmo di taglio delle specie quindi qual è il beneficio di fare questo in una strada o in una scarpata di un campo coltivato? nessuno non c'è nessuno eppure continuiamo a fare queste sono nella zona di Pedaso qui è stato il comune che ha fatto questa bella idea che ha fatto la ripulitura in una zona di un'area floristica protetta qui siamo al parco del Corner un'azienda biologica che ha fatto le pulizie lungo i margini bisogna ripirare la concessione di un'azienda biologica qui siamo al parco del San Vigino della provincia di Ancona che ha fatto questo bel regalo al parco e qua l'esempio del parco del Conero appena fuori e appena dentro il parco guardate che differenza nei guardrail dove appunto tutto sommato lo sfalcio della vegetazione è più complicato e basterebbe lasciare la vegetazione che c'è oltre che avere un aspetto decisamente più gradevole avremo la sicurezza di avere una vegetazione stabile che protegge il terreno pensate che si possa fare questo che sia difficile farlo e dietro purtroppo ci sono degli interessi magari non di miliardi non di milioni di euro ma ci sono interessi economici perché sennò non si farebbero veramente delle cose così miobi in generale provato rapidamente perché sennò porto via troppo tempo il glifosate è un diservante riconosciuto già dalla stessa Monsanto come detenitrice del brevetto fino al 2004 e riconosciuto come pericoloso per gli ambienti acquatici questo appunto è il modo con cui si usa anche in cunette che si sa sono ricche di raccolta d'acqua e si si è dimostrato che gran parte della perdita di biodiversità degli anfibi in tutto il mondo è dovuto appunto proprio all'abuso dei diservanti per la salute umana l'avete già visto non so a dirvi altro ripeto quello che appunto sarebbe importante avere l'informazione quando una zona è stata trattata sapere che lo è stato fatto perché per dieci giorni non si vede assolutamente nessun effetto e quindi deve essere e poi abbiamo una provincia che appunto fa il diservo anche dentro le aree urbane pur avendolo sempre negato ma appunto abbiamo parecchie documentazioni che lo attestano quando c'è giù una legge regionale che prevede appunto che non si possa fare una una riflessione sulla degradabilità perché viene considerata una sostanza che si degrada rapidamente bene questi sono i rilevamenti dell'ISPRA che è l'istituto superiore ricerca ambientale del ministero questi sono gli inquinanti più abbondanti trovati nelle acque superficiali i due più importanti vede sono AMPA che è l'acido di degradazione del glifosate e il glifosate stesso questi sono i dati del 2009 questi sono i dati del 2010 il 2011 è esattamente uguale il 2012 idem questa è la considerazione che vengono fatte che appunto sarebbe importante tener conto appunto di queste alte percentuali di sostanze inquinanti presenti sulle acque superficiali che rendono al di fuori degli standard di qualità ambientale quindi sono al di sopra dei livelli accettabili e pensate che questo viene fatto in una sola regione italiana cioè in Lombardia ancora dal 2008 si sa che questi sono i dati ancora le altre regioni non si sono mosse per fare questo studio anche nei loro territori che fare sto per chiudere ci aspettavamo molto dalla nuova PAC dalla valutazione dei servizi ecosistemici dalla greening insomma chi come me lavora in una facoltà d'agraria o comunque con agronomi insomma ci si aspettava veramente tantissimo da questa nuova opportunità della politica agricola comunitaria sono stati previsti dei pargamenti verdi delle fasce la previsione di fasce vegetate all'interno del percentuale di zone quindi mantenute con copertura vegetale all'interno delle aziende basterebbe appunto non c'è bisogno di allarmeccarsi il cervello sulle superfici di queste fasce e margini dei fossi perché basterebbe appunto lasciare lo spazio per poter attraversarle con un mezzo meccanico e poter fare la manutenzione perché tanto sfalcio e intervento eventualmente di ripulitura dei fossi sono necessari quindi non c'è bisogno di particolari condizioni ma pensate che cosa sta emergendo nella furbizia dei nostri aziende la pressione è fatto sì che nella nostra regione le aziende vengono valutate per la percentuale di aree non coltivate quindi mantenute a verde a prateria stabile nella loro complessità anche quindi se sono proprietà frazionate queste vengono valutate complessivamente qual è il risultato? che sono aziende che sono andate a comprare produzione di terreno in zone montane e quindi così le lasciano abbandonate perché non hanno nessun interesse a farne alcunché però queste hanno già risolto il problema del verde quindi continueranno a utilizzare i terreni come hanno fatto fino adesso e non avremo nessun beneficio di nessun tipo questo è il bel risultato che abbiamo una cosa importante sarebbe ma qui vado rapido perché ho preso troppo tempo la riscoperta delle nostre tradizioni come sapete io faccio parte dell'associazione si chiama Accademia delle Erbe Spontanee e cerchiamo di rivalutare appunto le grandi tradizioni che sono state tramandate da madre in figlia nei secoli passati e che ultimamente appunto sono state non più trasmesse allo stesso modo e quindi rischiamo di perdere queste informazioni abbiamo fatto lo studio in diverse aree della provincia del Cona il parco del Cona Osimo Iesi e il parco della Gola Rossa uno vi faccio vedere i risultati di uno questi sono i vari tipi di utilizzazione più importante qui siamo nella Gola della Rossa più importante è quello alimentare ma sono tantissime le utilizzazioni che abbiamo trovato e naturalmente dal punto di vista dell'alimentazione quello che si usa più spesso sono le foglie ma non vengono disegnati germogli e turioni radici infatti coge usi fitoterapeutici un uso per fortuna non più praticato è quello dell'aborto attraverso l'ingestione di prezzemolo in grande quantità ma a rischio della sopravvivenza e invece uno che si potrebbe ancora fare è il biancospino che si usa per un decotto per migliorare la circolazione i sussurrogati del tabacco sono tantissimi le foglie della canna della vitalba della roverella e quella della vite venivano rotolate a dentura della vitalba si prendevano i rametti e si fumavano come sigaretta ovviamente non è un invito a demolare usi magici e propizzatori una tradizione importante delle marche in molte zone delle marche e l'acqua di San Giovanni pensate che in alcune zone ho trovato anche 30 ingredienti diversi per fare naturalmente ogni anno un po' si può cambiare a seconda delle condizioni locali però è una cosa importante e poi l'uso dell'olmo per tante modalità una ricetta non ho il tempo di descrivere ma è molto interessante quella pensate che la malva era praticamente il pronto soccorso per chi stava in campagna serviva per tutto l'uso interno l'uso esterno per i pacchi per decongestionare l'apparato digerente per gli ascessi dei denti praticamente si usava per tutto e anche per l'interno un progetto che abbiamo fatto sul Connor è quello delle erbe spontanee naturalmente quello che abbiamo proposto alle aziende all'inizio pensavano che gli avessero dato i semi per poter coltivare le piante che consideravamo spontanee che possono essere interessanti dal punto di vista alimentare e abbiamo detto no l'unica che vediamo in questo modo è il parca sassi questo che vedete qua perché cresce sulle falesie e nessuna azienda ce l'ha sono tutte aziende biologiche tutte le altre invece le andiamo a vedere nella vostra azienda dove stanno cerchiamo di moltiplicare la loro presenza laddove non è sufficientemente elevata e vi spieghiamo come si raccoglie come si usa come si può mettere in commercio mettiamo in contatto con ristoranti e turismi che possono utilizzare queste piante e abbiamo creato quindi questo sistema interessante di recupero di quello che sembra inutile ai margini dei campi per finire poi saranno loro a dire sicuramente molto di più un esempio è appunto di sindaci che hanno fatto qualcosa veramente di importante per Malosco il comune di Malosco di Valdinonne il sindaco Marini che è qui dietro di me ha fatto un regolamento che prevede appunto dei limiti all'uso dei limiti diciamo di rispetto all'uso dei pesticidi ed è quindi insomma una misura di precauzione per la sicurezza dei cittadini naturalmente le aziende siamo una zona dove non c'è centimitro guardato dove non ci coltivano le mele le aziende hanno fatto ricorso ma il Tarra ha dato ragione al comune quindi è diventato operativo per una storia invece che non ha avuto lieto fine è iniziata con una situazione eccezionale a settembre scorso c'è stato un referendum a Malos siamo sempre in Trentino in cui il 75% delle persone è andata a votare e di questi 72% hanno detto no ai pesticidi e sembrava veramente una cosa eccezionale chi si occupa di queste cose sapeva che poi non sarebbe stato così facile trovare il modo per poi rendere operativa questa scelta che però era molto chiara molto netta dei cittadini purtroppo il consiglio comunale ha trovato la strada più contorta per delegittimare questa scelta cioè praticamente non hanno votato non hanno raggiunto il numero sufficiente di sì da parte dei consiglieri e quindi è decaduta la scelta adesso non so se sarà recuperabile o no però accetto che è un colpo alla democrazia perché se la maggioranza della popolazione di un comune dice che non vuole più i pesticidi l'amministrazione che da cui cittadini è stata votata non può esingersi da prendere in considerazione le soluzioni più adatte abbiamo una soluzione bellissima una proposta bellissima da parte del sindaco Gios e preside della facoltà di economia dell'università di Trento a Vallarsa e questo comune montano è stata proposta un'inversione della prova cioè non è l'agricoltore biologico che deve dimostrare di non aver usato i pesticidi ma è l'agricoltore convenzionale che deve dimostrare di non aver fatto danni e la semplicità sarà più su questa bellissima scelta da parte di un comune montano un sindaco francese visto che in Francia adesso stanno succedendo cose le più diverse e questa è un'informazione appunto in cui il sindaco dice non utilizziamo più prodotti fitosanitari in particolare diservanti i viali torneranno verdi verranno facciati ma domandiamo a tutti di utilizzare lo stesso criterio nella manutenzione dei propri fondi ritorniamo alla natura per l'avvenire tutti e questo per finire guardate questa immagine siamo in un terreno proprio qui vicino versante di fronte a questo lato e c'è due agricoltori che hanno tutti e due abbastanza usi a fare lavorazioni andanti e forse anche abuso dei pesticidi dei diservanti però quello di destra proprio appunto non ha avuto alcuna remora e quindi quello è l'effetto di lavorazioni e diservo anche lungo il fosso quello a sinistra ha già avuto forse un ripensamento all'ultimo momento forse si è finito il tempo con la benzina dal diesel è rimasti pochi centivi di terreno tra l'altro coperto da vegetazione ma una vegetazione annuale quindi non particolarmente ricca di apparato radicale eppure guardate il risultato quindi pensate se noi abbiamo tutti i fossi coperti dalla vegetazione che cosa riusciremo a ottenere in un insieme di aree collinari come le nostre particolarmente fragili come sono appunto le colline della nostra regione grazie